Hanno interrotto un'attività che non c'era nessuna motivazione per le cose come si erano messe di interromperla. Hanno praticamente fermato una macchina che andava a 180 e ci hanno piantato un albero davanti. L'azienda lavorava alle commesse? Stava riprendendo, avevamo le commesse in una percentuale abbastanza rilevante in confronto all'anno scorso. Siamo in piena campagna vendite, perciò avevamo tutti i presupposti per poter intraprendere il nostro lavoro. Sono 77 le persone in Valtiberina che si trovano senza lavoro. Sono i dipendenti di Supermaglia, la nuova società nata dopo il fallimento di Cose di Lana e che aveva in affitto il ramo di azienda dello storico maglificio Biturgenze. Dallo scorso 1 marzo la decisione del Tribunale fallimentare di Arezzo di sospendere questo affitto ha aperto un baratro di fronte al futuro di questa azienda. Si è largato il debito, il buco e il motivo per cui il giudice ha decretato questo è il motivo. Un'assemblea sindacale ospitata dal Palazzo Comunale di Sansepolcro ha messo in luce tutta l'amarezza di questa vicenda. 38 di questi lavoratori si erano anche impegnati a costituire una cooperativa Maglia 38 che si era offerta di acquisire la GNUCO. Sicuramente Supermaglia non brilla dal punto di vista economico e finanziario ma questo è ovvio se no non saremmo in queste condizioni ma comunque tengo a precisare che vanta nei confronti del fallimento della Cose di Lana dei crediti di circa un milione di euro ammessi al passivo del fallimento quindi accertati anche dagli organi della procedura. Di fatto i lavoratori sono sospesi. Adesso in questo momento male, non si vede un futuro. Aspettiamo e vediamo cosa ci può riservere in questi prossimi giorni. Nell'incontro tra i curatori fallimentari e di sindacati che si è tenuto sempre nel Palazzo Comunale è stato deciso di chiedere supporto alla Regione Toscana per provare ad avviare un percorso diverso. Attraverso l'unità di crisi del dottor Simoncini ci siamo subito mossi per provare a cercare gli ammortizzatori sociali che in questo momento la legge ci non sente. Quindi la possibilità di attivare una cassa integrazione speciale per far sì che i lavoratori possano in qualche modo non rimanere senza stipendio.